Long play di Chase HQ versione arcade. Da piccolo ho amato questo coin-op che si trovava in una sala giochi della mia zona con un volume delle casse audio esorbitanti. A me piaceva tantissimo. Praticamente una via di mezzo tra un videogioco di guida e un picchiaduro, in quanto in ogni livello si prevede l'obiettivo di raggiungere un malvivente che guida un'altra auto e poi bisogna tamponare l'auto del malvivente fino a farla fermare. Ci sono due marce, prima e seconda, vedete a video in basso a destra l'icona delle marce che era assente nell'arcade, quella è una cosa dell'emulatore e poi ci sono tre turbo che si possono utilizzare in ogni schema. Un titolo eccezionale, c'è persino un effetto sonoro che viene attivato quando si passa vicino a alcuni elementi che stanno a bordo pista, soprattutto quando questi elementi sono vicini e mi ricordo che da bambino proprio mi agitavo. Un gioco che è rimasto nei miei ricordi. Buona visione! A presto! . . . . . . . Roger Answer me, not the suspect in this time Over Let's get moving Open Bear down More, push it more Please Oh man Bear down More, push it more Please Open Bear down One more play Okay You're under arrest on suspicion of first degree murder This is Nancy at State's headquarters We've got an emergency here Carlos, the New York armed robber has been spotted in a yellow sports car on the freeway Over We read loud and clear, over Let's go, Mr. Let's go, Mr. Specialist This is Nancy at State's headquarters The target is dropped This is Nancy in State's headquarters This target vehicle should be in your sight at any second. Over. Nancy, we got this suspect in our sight. Over. Roger. Ok, let's get him. They're down. More, push it more. Please. Oh man. They're down. More, push it more. Please. Oh man. Bear down. More, push it more. Please. One more. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Okay. You're under arrest on suspicion of armed robbery and murder. This is Nancy at State's headquarters. We've got an emergency here. A gang of Chicago pushers are fleeing towards the suburbs. The target vehicle is a German sports car. Over. Leave it to us, Nancy baby. Hold on, man. Let's go, Mr. Driver. Let's go, Mr. Driver. Grazie a tutti! 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 Oh man! Grazie a tutti! Oh man! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!